Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Sindaco sceriffo in manette, lo scippatore seriale è successo a Casorezzo, dove il primo cittadino Pierluca Oldani, dimostrandosi in possesso di nervi molto saldi, domenica sera ha bloccato il malvivente che aveva già colpito quattro volte in paese. Mentre percorreva via per Rossona con la sua auto, Oldani ha visto il malintenzionato scendere da uno scooter e dirigersi di corsa verso un'anziana. E così ha prima buttato a terra lo scooter parcheggiato voltandolo con la sua auto, poi si è lanciato all'inseguimento a piedi e, con altri due casorezzesi, ha fermato il fulgitivo in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Soccorso è trasportato all'ospedale di Legnano, l'ottantenne vittima per fortuna non è grave. Lo scippatore, un quarantenne che va già colpito a Casorezzo provocando anche la rottura della spalla a un'anziana, è stato così assicurato alle forze dell'ordine. Dai pali della porta alla guerra, l'ormai ex portiere Ivan Luca Vavassori, che nella sua carriera ha difeso tra le altre le porte di Propatria e Legnano, ora combatte in Ucraina come foreign fighter. L'ha annunciato sulla sua pagina TikTok pubblicando alcuni video in cui spiega le ragioni della sua scelta. Ora si trova proprio in Ucraina a combattere contro i russi. Solo un mese fa, sempre dai social, Ivan, 29 anni, figlio dell'ex patron dei tigrotti Pietro e di Alessandra Sgarella, aveva annunciato di aver appeso le scarpette al chiodo. A Legnano ancora violenza nei confronti dei giovanissimi, diciottenne minacciato con una pistola a giocattolo e picchiato, la polizia identifica i responsabili dell'aggressione del 26 febbraio scorso, quando un ragazzo era finito in ospedale con ferita al volto. Proprio al fine di arginare gli episodi di violenza tra i giovani, nel fine settimana appena passato, gli agenti hanno disposto una serie di controlli straordinari, soprattutto attorno ai locali della Movida, controllando 393 persone e 74 autovetture. Il recupero di un drone stava per costare caro ad un padre proprio all'indomani della festa del papà. Domenica, intorno alle 17.30, i vigili del fuoco di Inveruno sono dovuti a correre in via Petrarca per soccorrere un uomo di 40 anni, vittima di un curioso incidente. L'uomo stava giocando con il figlio, utilizzando appunto un drone, quando l'oggetto volante è finito sul tetto di un capannone. Il quarantenne ha tentato di recuperarlo salendo sulla tettoia, ma è purtroppo accaduto, con un volo di circa 5 metri. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri. L'uomo ha riportato ferite che hanno reso necessario il ricovero con l'elicottero dell'elicottero dell'elicottero che lo ha portato all'ospedale Niguarda di Milano. Receptionist, portieri, cuochi, camerieri e barman, adetti al banco, pizzaioli, guide e accompagnatori turistici sono le figure più richieste dalle aziende del turismo e della ristorazione che vogliono ripartire. Gli enti bilaterali e bilaterali del turismo corronali pari unendo domanda offerta con il My Job Day, in programma lunedì 28 marzo. Una giornata intera all'hotel Europa di Ispra, in cui le aziende del settore e gli aspiranti lavoratori si potranno incontrare in colloqui mirati in visita di possibili assunzioni. Nell'intervista di Elisa Polveroni, il presidente di Federalberghi Varese, Frederic Venturi, fa il punto sul settore tra la ripresa dei laghi e le difficoltà di malpensa con il T2 ancora fermo. Siamo col presidente di Federalberghi Varese, Frederic Venturi, un'iniziativa che aiuta il turismo nel momento in cui c'è una ripresa nei laghi e una difficoltà ancora forte a malpensa. Si può sostenere in questo modo una ripresa complessiva? Allora sì, nel senso che gli arrivi stanno pian piano aumentando, sicuramente anche l'anno scorso in estate il lago per fortuna è riuscito ad alzare quello che sono le presenze rispetto agli anni precedenti perché i laghi sono stati un po' riscoperti anche dagli italiani, infatti il numero di italiani che è venuto sul lago è stato di gran lunga superiore a quelli storici. A malpensa invece le altre zone della provincia fanno molta più fatica perché quel turismo leisure ma anche di lavoro di business che c'è normalmente non è ancora ripartito. Adesso speriamo che con l'allentamento delle restrizioni e l'aumento dei voli in arrivo da malpensa la situazione pian piano possa andare a migliorare. Sicuro è che per quanto riguarda il comparto alberghiero l'emergenza sicuramente non è ancora finita come in tanti altri settori che invece hanno vissuto adesso già una ripresa pressoché totale. E per chiudere un gradito ritorno alla Schiranna di Varese riecco il Luna Park. Vediamo il servizio di Valentina Fomagalli, immagini di Angelo Pulicelli dell'Agenzia Blitz. Torna il 25 marzo dopo due anni di fermo a causa del Covid il Luna Park della Schiranna. Venerdì il collaudo e poi sabato il via alla Fiera del Divertimento che durerà per tutto il mese di aprile. Ad accogliere i varesini le storiche famiglie di Giostrai con tantissime novità a cominciare da due attrazioni dedicati a grandi e piccini. Il Top Spinner, una montagna russa con le navicelle che girano su se stesse e il Big Bam Boom, percorsa avventura tra labirinti e prove da superare. Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. Le norme anti-Covid sono valide anche per salire sulle attrazioni e un servizio di sorveglianza privata vigilerà sui più giovani. Per restare aggiornati sugli orari e le promozioni attivi sulle giostre è stata creata la pagina Facebook Luna Park Italia slash Varese. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento a domani, augurandovi una buona serata.